Easy go Devo distruggere la barriera Pieni di petrolio E sa, forse quella pozza è infiammabile La barriera è caduta Devo proseguire È una specie di camera di dissanguamento Devo allineare le condutture Per riempire la vasca di fronte al cancello Saranno serviti centinaia di sacrifici Per riempire queste condutture Devo collegare insieme Queste due colonne Per riempire la vostra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.